Ha scelto la comunità di Shefa Amer, situata nel distretto nord di Israele, nell'Alta Galilea, per dare inizio alla sua visita pastorale, che toccherà tutte le comunità cattoliche latine del patriarcato. Lo scorso fine settimana, per Monsignor Fuad Tual, è stato un momento bello e significativo. Per la comunità qui residente, infatti, la presenza del Vescovo apre alla comunione con l'intera comunità ecclesiale, soprattutto in questo tempo di cammino quaresimale in attesa della risurrezione. La visita a Shefa Amer, oltre ad essere un dovere di Vescovo, ha offerto la possibilità a Monsignor Tuad di comprendere meglio la comunità parrocchiale. Da parte dei fedeli è stata l'occasione per avvicinarsi al pastore, non tanto come persona, ma come successore degli apostoli. Sono i Vescovi oggi chiamati ad attuare il comando di Gesù di andare per le vie del mondo a portare la buona notizia del Vangelo. Il patriarca è stato accolto alle porte del paese da oltre 200 fedeli, dal parroco padre Bassam e Deir e dalle autorità civili. Presenti anche vari esponenti delle altre religioni. La visita pastorale è uno strumento assai efficace per condividere le difficoltà e spingere ad una testimonianza coraggiosa, particolarmente qui, in una terra piena di contrasti. Siamo contenti di avere con noi il Monsignor Faudi Tewal e il Monsignor Bugulos Marcozzo. Sono tanti contenti di avere con noi il padre perché è arrivato qua a vedere che problemi abbiamo qua, di vedere cosa può aiutare, ma tutta la gente è stata felice di avere il padre con noi. Penso che questa visita dovrebbe essere tanto importante per la Terra Santa, per i cristiani in questa terra. Abbiamo tanti problemi, questa visita penso che la deve dare a noi e la forza di stare qua, di pregare per tutto il mondo, di avere pace in Palestina e in tutto il mondo. Monsignor Tewal si è fatto incontro alla comunità parrocchiale con un dialogo schietto e sincero, spronando a camminare insieme, superando le immancabili incomprensioni. I doni che lo Spirito Santo ha deposto nel cuore di ogni battezzato, ha sottolineato il Patriarca, vanno coltivati e trasformati in edificazione dell'intera comunità. Grazie a tutti.